questo è un saldatore che mi ha regalato un mio amico l'ha trovato in una vecchia cassetta dei ferri saldatore istantaneo come si usava una volta è un 60 watt questa è la marca c'è anche il cambio tensione c'è due lampadine per illuminare la zona di saldatura questa è la punta vediamo un po se riesco a farvelo vedere questa è la punta vediamo quanto consuma realmente vediamo sui 60 watt va bene facciamo anche una prova di saldatura effettivamente molto comodo perché non devi aspettare che si scaldi il saldatore funziona benissimo perfetto